E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e questo è il gioco che mi ha Roblox E siamo tornati su BrickBronze finalmente perché c'è una novità incredibile Ovvero, il gioco è diventato gratis Finalmente, stavamo aspettando questo momento perché sapevamo che mancava poco a vedere la mappa gratis Siamo davvero per entrare? Sì, ho davvero paura, sai perché? Perché dentro il vulcano, gli allenatori erano fortissimi Quindi sinceramente non so cosa aspettarmi da questa polestra perché secondo me avranno livelli elagerati Io non so neanche che tipo di Pokémon aspettarmi Non abbiamo nessun tipo di indizio, no? È difficilissimo da capire Dentro un vulcano cosa ci sarà mai? Secondo me, elettro Secondo me, erba Erba proprio Dentro il vulcano tu non lo sai se può crescere l'erba, capito? Comunque, ovviamente sarà di tipo fuoco Io ho preparato un Pokémon d'acqua, giustamente il mio Azumarill Preparato a livello 20 e spero che basti Posso dirti una cosa che io so che tu non sai? Ok, in questa palestra per arrivare all'allenatore finale a capopalestra Bisogna fare parkour? No Sì No Parkour nella lava, anzi, perché non è neanche un parkour normale Beh, direi che è finito qua, se ne possiamo tornare a casa, stare tranquilli nel nostro centro Pokémon Ti ho detto, ho preparato i Pokémon, ma tu a saltare non ti sei preparata Uffa, uffa, uffa Andiamo, andiamo, andiamo Ok, mi stavo spaventando Quando arrivi qua puoi saltare Perché in effetti nel gioco normale non possiamo saltare Esatto Ci siamo? Siamo pronti Che bello il posto Uno Sono già morta Anche io Hai visto come ritorno in vita? Che figo, bellissimo Sono morto perché mi mette più ansia a farne giusto uno Esatto, piuttosto che farli tutti di fila Comunque ci siamo, facciamo la nostra prima volta Che bei capelli che ha però, eh È bellissimo E questi sono proprio belli Perché non te li prendi tu? No, tu no Così, molto, molto rossi, molto tinti Dai, dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo Ah, guarda chi c'è Ah, bello Slugmo a livello 16 Fogli, e intanto io ce l'ho Shaney e tu no Esatto A Tuesday, a Zoomarill, io uso Giraffina Comunque non si vedrà più lo schermo di Ferenichi, ragazzi Perché era davvero scomodissima Non credo che cambiasse molto vedere anche il suo schermo Quindi si vedrà soltanto il mio Ma vi facciamo un po' di telecronaca ogni tanto Esatto, se c'è qualcosa di particolare vi aggiorno Io ovviamente al primo hit l'ho distrutto, giustamente Eh, ma sei fortissima Anche Giraffina è fortissima Infatti c'è un altro Pokémon che ho livellato tantissimo Perché mi piace troppo, troppo, troppo Comunque ha un altro Secondo te ne ha tre? Eh, credo proprio di sì, guarda Credo proprio di sì Andiamo Dobbiamo avanzare Secondo me c'è un'arrampicata adesso Sì Uh, che bella Wow E adesso dove finiamo? Guarda Aspetta, devo far di lato Non puoi girare la telecamera Opla Aiuto Siamo a fermare Oh beh, però, è così Ecco, è bello Charmeleon Non l'avamo mai visto finora Danlo anche a noi Forza, asciù Allora, vediamo se riesco ad ammazzarti con un colpo D'altronde sono sei livelli più alto No, manco per sbaglio Ci provo, ci provo Io sono solo due livelli più alta Eh, quindi non so se riesco a distruggerlo in un colpo E infatti no È forte Se fa Dragon qualcosa ti spacca la faccia Dragon Rage Dragon Rage Sembra che diventi più complicato Andiamo Uno Due Uno Due Tre E di nuovo allenatore Quanti allenatori ci sono? Io pensavo che adesso incontrassimo subito il capo palestra Un hit Sì Bravissima Bravissima Giraffina comunque è davvero fenomenale A me ha bruciato No Mi fa malissimo Povera Zoom Harry Che soffre Che soffre Uno Due Due Tre Tre E adesso Oh mamma mia adesso Due Uno Tre Due Aiuto Tre Arrampicata E arrampicata E secondo me No, ancora no Ce n'è un altro prima del capo palestra Wow Eh vabbè, vabbè Ah ma allora sei un duro tu eh E guarda come è vestito Poi guarda lo sguardo La cascata È proprio cattivissimo Di lava Con gli occhiali da sole E la giacchetta in pelle Vorrei averla anch'io Una cascata di lava qui dietro Per incutere timore Deve essere epica Ma farebbe caldo Vabbè paziente C'è caldo in ogni caso Io ce lo vedo Che sotto a tutto questo Sta sudando E sta pensando A che ora torno a casa Che ha pure il giubbotto in pelle Che ti fa sudare ancora di più Quando c'è caldo Ecco Secondo me guarda È talmente concentrato Per non squagliarsi E per quello che poi Ha questo viso Molto Guarda Comunque Ti facciamo un favore Ti battiamo così Te ne torni a casa E ti fai una bella doccia Va bene? Possibilmente è fredda Perché secondo me Ah si chiama Sebastian Non avrei mai detto Ciao Sebastian Piacere di conoscerti Ma noi vogliamo lottare Quindi muoviti Gym leader Sebastian Ok perfetto Prontissimi a combattere Sebastian Forza Con cosa vuoi iniziare? Con un leoncino Livello 22 E vabbè Uccidilo per favore C'è fatta? Uno è andato 348 Girafina ha fatto Il livello 25 Allora Girafina Devi ammazzarmi Almeno questo Growlit Altrimenti Siamo nei guai Seri Ok? Stai riponendo Tutte le tue speranze Su Girafina Noto Sì 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 perché ne ho allenato solo due Perché non avevo voglia di allenarne tre Io ne ho allenati parecchi Sono arrivata molto preparata qua Quindi come vedi sono abbastanza tranquilla Dai Uccidilo Brava Brava Girafina Brava 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 Fa danno? È morta Girafina Oh no Non ho altro da dire Oh no T'ho distrutto Non ci credete mai Ma il Pokémon che abbiamo Come primario È uno dei Pokémon che abbiamo Più bassi in squadra ormai Lo metto giusto Perché comunque No Comunque Teoricamente non dovrebbe essere Molto efficace Però mi ha lo stesso Spaccato la faccia Quindi Chilava Sei totalmente inutile Aia se siamo messi malino qua Uccidimelo adesso Uccidimelo adesso Un critical Uh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Quello era un critico Ce l'ho fatta Mamma mia Uh Aiuto Uh Aspetta Ce la fai? Non lo so Ce la fai? Non ne ho la più Pallida idea Sono solo che attacco Sempre per primo Ed è un buon vantaggio Però sono bruciato E ho 14 divi Oh Aiuto Vai 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 Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? No Ma dai È bassissimo Ma no Questo è perché Non ti sei allenato bene I pokemon Quello è per questo Oh mamma mia Non mi uccidere con un colpo Ok Andata Io alla fine faccio Il riso a conto veloce Ce l'ho fatta con Azumaril E la mia giraffina Che non si chiama giraffina Ma è lo stesso pokemon Con cui due ce l'ho fatta Però ho sudato davvero Cioè mi le hai lasciati Tutti e due bassissimi Eroe del giorno Leoncina È dato che è riuscito A dare il colpo finale Per vincere questa palestra Ok C'è ovviamente Bellissimo La medaglia bellissima Questa di fuoco È davvero davvero bellissima È molto più bella dell'altra Bellissimo Bellissimo Bravissimi Squadra imbattibile Allora Ci ha dato TM50 Che sarebbe Over Earth Che è molto buona Come abilità Mi è piaciuta parecchio E teoricamente Ci dovrebbe dare la possibilità Di usare No Finalmente possiamo continuare La nostra avventura Siamo rimasti in questa città Davvero per un sacco di tempo Perché comunque Tra palestra Vulcano E tutte le cosettine varie Siamo rimasti davvero Un sacco di tempo qua Ci hanno trattenuto davvero tanto Quindi è arrivato il momento Di cambiare città E proseguire la nostra avventura Uuuuh Ma questo è un bel posto Uuuuh Carino Buongiorno signori Subito a sfidarci Vero? Subito Subito allenatori Lo immaginavamo Mi sembra giusto Torniamo a usare i pokemon principali Perché sono appunto Rimasti un po' indietro Di livello E quindi Tocca farli salire Perché no Assolutamente Assolutamente Oh che carino Eh ma Io ho un problema Ah perché hanno i pokemon Ci spacca la faccia Cambia pokemon Allora pokemon Metti qualcos'altro Per favore Metto l'uxi Ok perfetto È perfetto Ok Anche io Guarda la sinistra Uuuuh l'ho vista L'ho vista E soprattutto vediamo Che pokemon ci capita A me nulla A me nulla Che cos'è questa cosa Oh che carino È troppo bellina Bellina Trovi una quickball comunque Se lo vuoi sapere Ti dico uno spoiler Spoilerato Sì Disgraziata Mi sembra giusto Mega drain Questo è un pokemon d'erba E un pokemon d'erba Considerando che stiamo andando Probabilmente in una palestra d'acqua Potrebbe essere figo Anche perché parte dal 14 È la cosa più carina che ho visto nel mondo Quindi io la catturo Oltretutto non abbiamo ancora un pokemon d'erba Quindi mi Cioè utile Oh mamma mia guarda cosa ho trovato io Uno scogliattolo No è un castoro Lo vuoi dire una specie di castore È troppo carino Io confondo scogliattoli con castori Non so come Una casetta? Sì E cosa ci servirà quella casetta? Però vieni qua Vieni qua Dove? Prima di andare Ci concediamo un altro pokemon casuale Dall'erbetta Ok Ok Prima che si trova si decide se catturarlo o meno E poi andiamo avanti Ok ci sto 3 2 1 Vediamo Dai 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 Un bel pokemon Un bel pokemon No aspetta Ci voglio riprovare Non lo voglio questo castoro Scusami un attimo Io avevo detto solo una volta Però dai Visto che è capitato due volte il castoro E scusami Non mi capita altro Comunque mi devo mettere anche un pokemon un po' più basso Perché altrimenti li distruggo Beh hai ragione Ne avevo uno fortissimo Mamma mia si è rischiato Skitty Non mi ricordo di che tipo di pokemon sia Skitty Però è bellino Quindi boh io lo catturo Sinceramente Quello è d'acqua ed è bellino No? E io ne volevo uno d'erba Non mi sembri felice Esatto Non sono felice Vabbè mi catturo questo d'acqua Dai Io azzardo a dire un altro pokemon Shiny Mi sembra una casetta in cui ci possono regalare qualcosa di bello Addirittura Sì oppure la pensione Che ancora non abbiamo mai trovato la pensione per i pokemon Che cos'è? Una casetta troppo bellina Ma non c'è nulla Dici Datemi un pokemon Io non saprei eh Secondo me ci potrebbe essere qualche segreto nascosto Ma secondo me non serve a nulla e basta Ma che senso avrebbe? Non ha senso Non lo so Vabbè non serve a nulla Pazienza 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 Continuiamo il nostro cammino Ma è la cosa più entusiasmante di oggi Eh lo so ma che ti devo dire peccato Una casetta linea Oh ma Uno due tre quattro Oh mamma mia No Quanti sono? Ma quando ci fanno arrivare alla nuova città? Quando? Voglio andare alla nuova città Ci vogliono far soffrire È una prova per vedere se ce la meritiamo Sei pazienza diciamo così Andiamo Andiamo Dobbiamo farcela Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti hanno totalmente ignorato, ti dico la verità. Non sei neanche girato, è incredibile. Neanche ti ha ascoltato, secondo me proprio, sono dispettosissimi. Questa è la mia situazione e ne manca uno. Allora, posso di sicuro togliere il paralizzante, ok? Ok. Che è già qualcosa di buono. Non hai pozioni, vero? No. Ai 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 ai, io le sto finendo, ne avevo qualcuna, ma le sto finendo, sono messa malissimo pure, io non so come faremo. Tu sei stata saggia a comprarle. Sì, certo, io le avevo prese per la palestra, sinceramente. Aspetta. Non vuole combattere? No. Oh, che bello. Mi stai dando una notizia bellissima. Allora. Mi stai dando una notizia bellissima. No. Che vuole? No. No, alla fine voleva combattere. Mi hai illuso. Mi ha illuso, guarda, mi hai davvero illuso. Ma ce l'ha super evoluto, Bibarel, che cos'è sta roba? Oh, mamma mia. E ne ha tre, no, io non ci credo, mi ammazzo. No, non è possibile. Almeno colpisci per primo, dai. No, io non ce la faccio, non ce la faccio a fare questo. È finita. Mi ha distrutto Giraffina, cioè con un hit mi ha tolto più di metà vita, cioè sinceramente non so più che accidenti fare, io non riesco. È finito. Non ci posso credere. Battuti da dei castori. Quanto ho perso? 650. Siamo tornati. Più forti che mai. Ti giuro. Gli passerà la voglia di dire qualunque cosa. Non lo faccio, tornerà a lavoro per un mese da quanto gli faccio la faccia. Ci puoi contare, ci puoi contare, guarda, mi hanno fatto arrabbiare tantissimo. Farci fare tutta quella strada. No, no, non sei perdonabile. Allora, usiamo la mia super nuova mossa che si chiama Electro Ball, che davvero guarda. Bella, bella. Boom, è super efficace. Disgraziato, finalmente ti abbiamo battuto. Alleluia. Voglio un sacco di soldi. Quanto dà? Ma dai, sei anche tirchio. Sei pure tirchio. Allora. Finalmente avremo il passaggio libero? Cioè, hanno capito questi qua con chi hanno a che fare? No, sai cosa ha detto? Sinceramente non ho voglia di andare là fuori e cacciare quei cattori. È troppo lavoro. Ok, i bidus. Sì, è arrivato un altro tizio che è il boss e sta beccando questi disgraziati che non avevano voglia di lavorare. Adesso secondo me li sgrida di brutto. Oh, che bella! Ma è tutta piena d'acqua, proprio strapiena. Ma guarda le lucine, che belle! Esatto. Vieni su, vieni su. È fantastica! Oh, che bella! No, questa è la pensione. Oh, che bellini! Questa è la pensione per forza. Stanno giocando. Ok, sì, solo uno. Io ho messo Foglina, perché non ho voglia di allenarla, però ci serve per la palestra, quindi la metto in pensione e speriamo che diventi fortissima. Io non ho ancora trovato un Pokémon d'erba decente, ti dico che è tutto questo, nulla. Altrimenti avrei messo il nuovo Shiny, perché comunque è solo livello 9 e poverino ha bisogno di salire piano piano. No, penso che aspetterò di catturare un Pokémon d'erba che alla fine mi è utile e poi tornerò nella pensione. Mi sembra la scelta più saggia. Comunque è fantastico che finalmente abbiamo anche la pensione. Però, allora, vedo qua il posto dove curare i Pokémon. Assolutamente sì. Questa che sarà la palestra, perché è un edificio strano, ed è già finita. Eh, non lo so, non lo so. Sì, da lì si esce. No, non hai capito. Le canne da pesca! Sì! Le canne da pesca! Dammi la canne da pesca! Buongiorno! Buongiorno! Subito! Subito! Ce la dà? Ma dai? Sì, ce l'ha data, ce l'ha data! La vecchia canna da pesca, giustamente. Bellissimo! Ok, direi che per questo episodio ci fermiamo così. Prossimo episodio, ovviamente, abbiamo la nuova palestra... Credo sia una palestra, comunque. Noi l'abbiamo dato per scontato. E dai, un edificio così strano è per forza la palestra. E abbiamo anche tutto, ovviamente, il villaggetto da finire di esplorare. Vedere se ci danno qualche oggetto particolare. Esattamente. In ogni caso, vedendo un pochettino il livello dei Pokémon, secondo me, non credo che possiamo provarla subito. Mi aspetto, magari, che il capo palestra abbia i Pokémon al 30. Quindi, secondo me, comunque, ci alleniamo davvero poco poco fuori dal video. E dopodiché siamo pronti per la palestra. Dopodiché non so davvero dove dobbiamo andare. Perché, sinceramente... Lo vedremo una volta che finiamo. Lo vedremo. Non so più cosa aspettarmi. Una volta, esatto. Ormai ho capito che ci sono sempre cose strane. Sì, è davvero strano questo gioco. Quindi, sì, vabbè, noi siamo preparati a tutto ormai. Esatto. Quindi, prontissimi per la prossima palestra. Beh, ragazzi, riusci così sul città. Lasciateci un mi like. E questa è la prima volta che vedete il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!